Onorevole, come commenta i fatti incresciosi che hanno portato alla morte di una dottoressa durante la serata di ieri in provincia di Bergamo? Innanzitutto esprimiamo ovviamente la più sentita vicinanza a parte della Lega Nord, in particolare quella di Bergamo, ai familiari della dottoressa che, mentre stava compiendo proprio neanche dovere, perché era al di fuori dall'orario di servizio, un atto di abnegazione di confronto di una persona ferita è stata travolta dalle bestie, dalle belve, e quindi penso che il primo pensiero non possa che andare proprio ai suoi familiari e ai suoi cari. Il secondo pensiero va invece, ripeto, a quelle belve che hanno compiuto un atto di questo tipo, delle bestie assettate, talmente assettate di sangue che non hanno avuto problemi a trascinare nella loro faida, addirittura appunto la dottoressa in questione, c'è una persona che non c'entrava nulla, che stava anzi facendo un atto di pura abnegazione. Io penso che la prima cosa da fare in questo momento sia effettivamente interrogarsi su un tema che negli ultimi mesi ha tenuto banco, cioè qual è il nostro modo di approcciarsi all'immigrazione. Non credo sinceramente che le politiche durante tutta l'estate propagate a piene mani dal ministro Chiang, che parlano semplicemente di integrazione e riconoscimento assoluto di diritti a partire dalla cittadinanza, potranno mai fermare fenomeni come questo tipo. dinanzi, è una cosa che ripetiamo da anni e continueremo a ripeterlo, dinanzi a chi è qui non per guadagnarsi un futuro migliore, ma semplicemente per trattare il nostro territorio come terreno di conquista, la risposta deve essere fortissima.